Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video! Oggi apriremo le uova dei BINZIEME! Popito, vai! Corri di come vuoi! Popito, yeah! Ora ha ballato a noi! Chissà che cosa c'è dentro! Vediamo già che fuori c'è un beluscino! E poi non si sa se c'è una sorpresa dentro! Intanto apriamole! Facciamo intanto vedere il beluscino che c'è fuori da ogni uovo! Qui ne abbiamo due diversi! E adesso le aprite e vediamo se dentro c'è un'altra sorpresa! E soprattutto se il cioccolato è... Buono! Aprite? Sì! Ma io ne ho ancora poco! C'è ancora uno scotch, mamma mia! Fai a vedere il tuo peluche? Chi sono questi sui peluche? Eric e Donizio! Eric e Donizio! Dai, aprite! Uh, Annalisa ha aperto! Vediamo tanto quello di Annalisa! Io non ho detto! Vediamo, 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 vediamo! Ma non ho messo tanto! Adesso! Poi Annalisa si aiuta! Puoi vedere bene l'uovo? È gigantissimo! È grandissimo! È grandissimo! E adesso? Apri! Vediamo un po' cosa c'è dentro! C'è un kit per disegno, una mazzicina e una mazzicina e una bombina degli insieme! Adesso tocca a Lorenzo, dammi! E la bombina si può anche inserire nella mazzicina! Com'è la cioccolata? Buona! Facciamo anche vedere che uova sono! Gli amici le possono trovare nei negozi, sono della Valcor! Tocca a Lori! Vediamo cosa troverà! Apri, 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 apri! Ulla! Uguale, vero? È uguale? Sì! Uguale, il kit con la mazzicina e la gommina! Voto per la cioccolata, Lorenzo? Dieci! Voto per la cioccolata, Naish? Dieci! Ora noi continuiamo a mangiare la cioccolata tutti insieme! E se vi è piaciuto questo video, polliciate e iscrivetevi al canale! Ciao! Di insieme o la, di insieme o voi, di insieme o la, di insieme o mai, ciao!